Musica La quarta edizione siamo sicuramente felicissimi della partecipazione, soprattutto giovanile, nelle nostre strutture di biembi e ristoranti e alberghi, provenienti anche dalla Costiera Maldonata. La quarta nazionalità, il bifo, il bifo, il bifo, il bifo, il bifo, il bifo. È un gruppo collegato internazionale e noi speriamo sempre di essere più pronti e più determinati in questa manifestazione che ci accomuna tra cose più importanti della Costiera Maldonata. Il sindaco per l'anno prossimo che siamo allargati al teatro. L'anno prossimo saranno realizzati i servizi, sarà ampliato, sarà riqualificato, questo è quello che speriamo che ci sia la stessa partecipazione, sempre più forte. Ormai è diventato un appuntamento fisso di tutta l'estate, è diventato il cuore del San Santa Rosa Festival. La manifestazione è più importante che noi vediamo. I nostri amuri, i nostri complimenti, noi vi stiamo seguendo anche gli altri appuntamenti e le altre giornate, sia alla Sagra Sua, al centro del Paese, sia i prossimi incontri che ci saranno per quando vi faccio. Grazie per l'attenzione, cerchiamo di essere sempre all'alto. Sindaco per l'anno prossimo. Conca dei Marini.